Mentre scorrono le immagini relative al 3-0, rifilato a Pagliari dal Don Bosco Spezia al fanalino di coda Rapallo-Rivarolese, rapida panoramica di quello che per il calcio della nostra provincia è stato un primo turno del girone di ritorno fulgido. A cominciare dalla prima posizione in classifica conquistata dall'introcomunale Beverino, sempre più sorprendente e vittorioso con rete di Cupini sul terreno del Little James, agganciata così la PSM Rapallo fermata a domicilio dalla San Pierdarenese sull'1-1. Noi rompe intanto lo stesso Don Bosco in zona playoff, nella zona bassa della graduatoria si fa avanti il Cadimare che con una punizione di di vittorio fa il colpo grosso sul terreno. Della Caperanese finisce senza gol l'unico derby provinciale Spezzino, quello a Moltedi fra il Levanto ed il Canaletto, non si poteva probabilmente chiedere di più al Magrazzurri, sconfitto per 1-0 sul rettangolo verde del Bogliasco. A Sarzana finisce 1-1 fra la Tarros e il Forte Molasana-Boero. Venendo invece direttamente alla seconda categoria, poiché la prima era ferma, e con le immagini a un altro 3-0, quello del San Lazzaro lunense sul Lerici, ospitato per l'occasione, appunto il San Lazzaro si fa capolista solitaria nel girone F, staccando il Rio Major fermato per 1-1 a Falconara dalla squadra B della San Terenzina. Per il resto, mentre con le immagini passiamo al 4-4, niente meno della pieve tra il Mamas B e il Ceparana B. Gol a Iosa anche a Bolano, dove la squadra B della Bolanese supera per 3-2 il Romito Magra-Ausser, e a Castelnuovo Magra, dove il Nave riceve ed impone un poker, dunque un 4-0 allo Spezia Sportale Caritas. Infine, Monte Rosso, Mamas Giovani 2-0.